sono andato, ancora questa mappa, ogni volta dobbiamo vedere questa mappa cos'è? la terza quarta volta che la si fa dai ma pure si sono messi a riciclare colossi feroci posso lanciarsi? vabbè, mira punto debole, ok maleolenti feroci possono attirare l'orda se ti esplodono addosso, cioè praticamente sempre più o meno cuminata, sputtana, saliva tossica da lunghe distanze io sono un mazzo da riconfigurare perché non c'è praticamente niente vigore, vigore, vigore quante volte l'abbiamo viste se no che skin è questa? ma su ma tu urma qui vieni nico ci sono, stavo facendo la build, sono andato qui sul sito a guardare la build che sito è l'uso? lebuild.com bello quello labile.com non c'è la, prima c'era, dove sono c'è più la le build di vincola.it la soluzione se la sono fatta e pensano solo le build la posta per lui hanno fatto quindi non ci si può curare qui? no non c'è il medic in dentro no, ma puoi comprarla, la cura bisogna comprarla un centino è la prima in alto a sinistra dai spenditi i soldi non ce ne sono ancora accorto non vorrei mica portarteli nella tomba è tutto il letto in realtà starebbe raccontando la storia in effetti non facciamo mai silenzio quando parli è tanto importante questa storia ma perché parla a bassa voce non ci stiamo a scuola devi spiegargli la tua trama devi spiegargli la tua trama ai tuoi seguaci io seguaci cos'è sta roba? sta arrivando ma sta roba mi sape di vero ho un po' so che me ne senti no ragazzi ho comprato la minigun bravo vai vai di minigun a me ha crashato il gioco mi si consiglia di eh non mi piace a me non è in tattore che cosa è successo che a me è crashato il gioco e metteremo giù in un corpo magari assoluto assoluto il punto debole è sul collo praticamente dietro abbiamo un giro in un corpo solo non ci posso credere è strano eh Matteo è in terra no è un bot a questa parte dove è andato ma deve essere io che ha molto divertente dove siete tutti ragazzi io se volete giocare online vi consiglio di pagare la bolla così è più che dai a tutti i follower dai vuoi ricaricare ue capo tutti i follower è diventato un pro è diventato una profilo di istro ma che non sei in partita? ci sei in disco ma non hai fatto il gioco si chiama cresciuto gioco ma non è in coraggio che vuole sì 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 non era in non è in coraggio ma non è in coraggio ma non è in coraggio ma non è in corso l'apertura uuuh guarda chi ricarica la comporta in corso copertura occhio maleolente male non ho fatto l'esplodere vicino si diciamo che quelle carte lì ad alti livelli di difficoltà in teoria hanno qualche senso ma quali carte? per esempio questa quelle malus diciamo ah quelle malus certo no ma questi livelli importano fino a certo punto ma sicuramente a livello alti tipo questa qua che appunto richiama l'orda ogni volta che malevolente ti esplode in ghigna no non è di default? no è proprio la carta con cimo production con cimo production il prossimo suo gioco è direttamente un simulatore di di merda io di concimare come concimare campi per per 60 ore ho un po' di botte quasi sana violenta già finita sta missione siamo tutti siamo stati fortissimi sono stati fortissimi rimosso saluto agli spettatori non si può riciclare così la mappa diciamo eh ma perché qui il po' c'era sulla storia non studi è fondamentale tutti questi NPC che abbiamo incrociato no mi sono perso un pezzo di storia sono triste ma io così cosa vado a prendere conviene legerti il libro da cui ho tratto che è Giobbe 10.22 l'apocalisse di Giovanni ancora ancora la cosa malta tra l'altro quando cecchino curio quelle che sono in zona Andre cosa Nick dimmi tutto quando cecchino i nemici e se tu sei lì a menare ti curi grandissimo allora sarò sempre qui nell'energia si curi lei curi si spargli a cecchinata addosso no no se c'è dentro la spina funziona se colpisco col fucile da cecchino tutti quelli nel range del morto di 10 metri dal morto c'è da dire che sono sono degli esperti di meteo normalmente la nebbia ci sono anche negli edifici no? eh no è l'umidità quello è l'umidità non l'abbiamo è l'umidità questo livello è una fumera questa è appunto che cecchino è una fumeria doppio cazzo no si sono quei bar quel eh i ragazzi invece che si fumano le nazionali eh narghile narghile qui un bar di narghile roberto il dottor rogers è la nostra unica speranza per sconfiggere gli infestati mi fa un po' male gli occhi in questa lucina dove trovare roberto vero brucio un po' eh si è fumo fumo negli occhi cazzo tutto fumo e niente al rosso continuo fino alla chieda ah vedi la chieda ci mancava ancora come si può fare ecco eh seguire campane dove che vorresti andare ding 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 dicola sta imprendendo sta vendicando non so dove sta passando dicola si addormenta ci ha addormento sui joystick scherzo epico finito male questo ha avuto una un attacco narcolettico narcolettico non dimmi che non sai cosa significa c'era il gizionario si è addormentato di colpo che cosa? Nicola secondo me si è addormentato e via non riusciamo che cazzo è la luce divina da qua sopra da sopra in che c'è la gente che si arrampica oh vedi che c'è già la gente che si arrampica che vuole venire ritrovare ah intanto c'è il nostro fido cecchino oppure l'attore no così sì vabbè vediamo di qua, non è inutile andare in due sono d'accordo ma nebbiamo... va bene ma è abbastanza anche in casa dove è il castone per comprare le cose? non c'era oggi? oggi no, domani hanno detto si è lì vicino alla porta la nostra qui sopra si però mi sa che ormai siamo più giù fuori no no ci dico dentro ah ok per 5 giorni ah è andato a fare l'approccio e l'uscina eh è dottore nella vita così come nel gioco vieni venga signorina vi invito questo benzinaio a questo bar qui che romantico è il mio giorno fortunato ci beviamo una bella birra dell'idol la 66 la birra del volatore con le bottiglie di plastica cos'è che è la chiesa? l'appuntamento perfetto eccoci in chiesa in chiesa ci sposiamo c'è l'appuntamento in chiesa ma invece qua c'è un po' di una violina bisogna mettermi sul botto qua fuori ok ma io sono prossimo siamo lì ma che cosa è stato? sei niki? eh è arrivato ma non hai la carta quella che ti fa liberare da solo prendi la carta è fondamentale aspetta ma dai quando vuoi quando non stai giocando e fai tutt'altro ti serve ti serve niki di qua forse cosa comenta che esplode se esplode si si ehi chi è quella bestia lì? orco di nuovo un porco o un orco? un porco un porco gigante un porco che hai tutti i tumori ah 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 ma adesso ma qua giù ma è invisibile ma è invisibile un'altra giù con questo non è più praticamente sì che danno adesso anche distruttore no arrivate che il distruttore ecco perchè tutti 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 c'è la benda al completo oggi la nebbia è successa la nebbia è un difetto è un bug questo nebbia è sempre più fitta che nebbia sarebbe scusa è bug questo è mia diavoli no una nebbia di silent fantastico cosa si può fare no sta nebbia in effetto secondo me è difettato scusa riceve i danni questo qua o ma sembra che siamo dentro un tornado è la fogo fuori non è nebbia tutto smarmellato io vedo blu mi sembra un po' ma io vedo tipo un'aura verde un tornado attorno ma io la vedo blu come se fossimo dentro la qualcosa dei simson con la bolla gigante dei simson io stiamo per affrontare un viaggio nel tempo magari magari maina lo spasso nel tempo che ci riporterà questo viaggio nel tempo all'inizio del 2020 qui c'è una mazza viola guarda qua dov'è? eh c'è l'uguale grazie se serve a qualcuno ma qualcosa fa di interessante c'è una sega elettrica se potrebbe prenderla potenza di fuoco mangio servirebbe però tipo armi con motoseglie e robe così che tagli c'è la cura tipo alla de drive oh madosca non mi gira è una pulita che bisogna assaltare il nostro compagno di merenda ti ammazzo ammazzate sulle gaviglie e siamo proiettili per il asfalto via questo schifo e mi ha preso aiuto di qua aspetta che sto curando qua ok questo è questo è steramentoso apriamo compagni avete proiettili per l'assalto? io ho 200 io si ve li posso dare questa passa io ho pari pompa fucili? troppa roba si fucili perfetto io pompa vediamo? dove stai chiuso? grazie grazie vero di strancio ah si può un po' se non ce l'è ma non si capise niente con sta nebbia cioè fatela bene scriviamo una lettera si ok il canale di week up si lamenta con voi guarda la nebbia dentro una che cagata si si è vero ho fatto male luccicosa brillantosa dentro nel container la nebbia ma che è una nebbia zombie ma stiamo dentro una per cui io lo spiego non ho capito un cazzo siamo dentro siamo dentro una mappoliera se avessi ascoltato la storia 25000 guarda con lì procto vado a cercare un altro schema ragazzi lo faccio al primo corpo si sono impegnati a fare parte bene poi dopo riciclano le mappe cazzo ci siamo dentro una mappoliera grave pericolo uuuu vorrei che anche questo l'ha reciclato l'abbiamo già visto il cimitero mi sbaglio si si velocisti corazzati ero qua Job 1022 incontra la gente di Philips alla chiesa fai attenzione ci sono delle talpe mutanti nell'area che chiameranno l'orda in ogni caso sia se allertate che uccide ah qui le talpe quindi inutile cercare di non farle gridare toh non c'è più la nebbia che magia ehm chi manca? Mario che mangia? c'è un fucile viola un pompa viola un po' che tanto qui è l'ultimo quindi poi i soldi non ci servono più niente allora io comunque vi regalo un altro genoto offensiva ragazzi ok ok forza non voglio aspettare non parlo non parlo non parlo ma è che proprio massimo della tenaia non lo so mi sembra di stare sempre nel solito post no questo pezzo è nuovo eh no ma perché la pensi bene e' che tutta più o meno uguale Ora sei capito tu, ora che hai visto tutto Ah questo è lo studio della chiesa e quello dove bisogna uccidere le talpe Spoiler Puoi fare gli headshot col pugnale Sì E puoi farlo anche con le dita seccando le due negli occhi Allora decidiamo la talpa da uccidere e la uccidiamo da 10 Ecco magari non tre, prendiamo questa quale Quale? Quella che c'è, una frecciolina sopra Oltre spariamo, uno, due, tre Ci ci puoi, eh? Sì Sì, però non arriva lo stesso Ha anche detto che arrivava lo stesso Eh sì In italiano in qualunque caso significa che arriva in qualunque caso No, no, no Potrei sbagliarmi Eeeh, non è proprio detto così Ci sono anche dei cavilli che se vai a leggere bene sotto sotto la lettera L'Accademia della Crusca potrebbe non concordare Guarda, Sartana è a terra Ma che strano Ah, scusami, io sono vicino a te ma evidentemente ero delle carte di merda Chiudi Questa faccia, questa faccia dice grazie Qualcuno non mi ha detto neanche tempo di preparare le mie carte Le mie carte Beh, già sei l'ultima, sei il più lento di tutti Eeeh, ma chi è che sei stato a due giorni, ci sono Perché Andrea va sempre per i fatti suoni Eh, cioè lui c'ha già No, non è un super giusto Ero da con l'accappatoio Sono corso velocemente qui Se c'è un cecco forte ditemelo Io sono anzi, sono un ragazzo che ha mostrato la re in gruppo Uno di noi Che piacere Forza, è ora di finirla C'è anche un cazzo di cecco, affambo Ma guarda, forse qui Guarda, forse qui Guarda, eravamo qui Scegliamo quella la Ciao Ciao La prenda, quanto è proprio buona da prenda Ciao Buoh, il capo lento Comodo Grande capo, l'obiettivo raggiunto Io ho raggiunto Escogbano, il palmarco Bocchi Ricoperto di merda Mi sono stato risucchiato dal cervellone Ma quante volte ti devo tirare su? Che cazzo ne sono, non so perché mi fanno male tantissimo ogni volta che mi tocca Qua cosa? Che atmosfera, guarda, guarda, ragazzi, la collina con... La collina... La casa sulla collina E' quella negli occhi Dai, ci demone uno questo Questa volgarotta Niente, orda E andiamo l'altro Quindi? Dov'è a questo punto il tuo italiano, eh? Innoitato Dov'è il tuo italiano? Ah, 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 ah 3, 1, 2, 3, via No, basta, basta, via Vaffanculo Voglio io dunque mi cercare qualcuno che mi curi Eh, non ne ho più niente Porco di dia Perché non hai comp... Ascolta quello... Eh Mi dissocio, eh Occhio quello che dici Eh, muoio anch'io Via, via Mi sto salvato in corso No, non ci credo No, tutto Abbracciato Tu l'unico che puoi salvarci Ma perché siamo finiti così? Ah, qualcuno mi ha seguito Eh, vedi Io comunque non ho le carte Io non ho le carte Io non ho le carte Lo so Ci hanno dato la mano è sempre di il braccio Sono a terra Qualcuno mi aiuta Mi sto autoripulendo la zona dove son morto, eh Qui Andre puoi venire da me tranquillo Eh, sì, sì Sono qui da me Sono dietro di te Ah, salivo Ma esser botevangela Possiamo andare a fare... Esatto Possiamo andare a fare... Grazie Eh, che botevangela E che botevangela Perché sei uscito di nuovo? No, 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 no Perché proprio... Non sono quando ho visto guardanti Cura non so perché Sono morto proprio definitivamente Sono qui Non c'è tempo da fare Io sono venuto Credendoti E viscerò un agguazio Occhio della parte di tu Sì esatto Sì esatto Che hanno lasciato di ferito vicino alla trincea E' esatto E' esatto Guit gut Mi sono preso un cacomela Me l'ha mangiato tutto Ugo Porco Ma non ci credo Chi ha affamato Il cacomela Un cacodemon Cacovaniglia Un cacodemon ti ha mangiato Ma nel tuo paese non è ancora arrivato il cacovaniglia No Il cacovaniglia Il cavolo adesso l'ho inventato adesso Cosa è una roba OGM Cos'è questa diavoleria E' una cosa abbastanza schifosa Che a me non piace E' un cacoduro Ma ragazzi ha un fucile di precisione epico Pregio Compratelo Cacovaniglia E' un'arma da fianco Clicca Calcini 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 una furca andiamo in chiesa subito andiamo a prego mi serve un voto se c'è senza milina ma cagata che cresce di tutto la manda ragato bene allora cosa dobbiamo fare qui tutti insieme la talpa andiamo in chiesa ragazzi tutti in chiesa tutti in chiesa eh che è stato uno sopra guardalo ma ma se l'uomo l'uomo in terra sei raggiati dietro le persone che si potrà hai ragione i perdonabili chi mi brucia mi metterà che fanno molotov addirittura per voi ma sarò ottimista ce l'ho che volevo lasciatemi l'ottica se c'è lasciatemi cantare ah qui c'è una carta casuale non avete finito dove? cingala quella è buona punizioni andiamo ma lì sopra non c'è qualcosa da finire iniziamo e ti serve copertura ricarico andiamo andiamo e andiamo Evangelo che non corre manco a pagarlo Eh Evangelo E' abituato Andare col moturino Eh si a portare le tizze Esatto e quindi Che è da fare La sparo io Sparala Torniamo dentro Facciamo i vigliacchi Facciamo i vigliacchi Chiamano il curato Chiamano il curato I vigliacchi L'acqua santa dov'è? Non c'è l'acqua santa da qualche parte Io qui ho aperto la porta La sconsagrata non c'è neanche l'altare Aiuto Ma che cazzo è sta merda Che ti sei messo addosso Mi fai morire prima Cosa fa? Cosa fa? Ti sei bagnata? Che è successo? Ehi Lupe Mannaro Ok Evasione Evasione Può muoverti Che è successo? Ok dai 3 di 5 Con questo metodo Dai Ma che non ci manca Questo metodo Cimordi e scappo Pronti Correte Correte Andiamo in chiesa Ma si può aprire lì eh? Dove vai? Andiamo in chiesa Dove fate? Dove metrano le scope? Stavo chiedendo l'indulgenza praticamente Che cazzo mi ha sparato Non è ancora sicuro Chiusa la chiesa Per battesimo a tremoni Passare da dietro Usteria Riva quello col baraccione Questo video mi deve confessare qualcosa al prete Sicuramente Abbiamo già capito cosa è Mi deve confessare Non si E c'è su Della mano destra Abbiamo già capito Al prete Ti ha capito da lontano Qual è la sua confessione Sì sì Ancora prima che Mi aiuti Mi aiuti Prete Mi aiuti Non riesco a fermarmi Mi aiuti Ho fatto tentazione Ok dove è l'ultima Passare Sto girando un po' Attenzione Eccola qua Lo sono io Avete visto Io Andrei in chiesa Sì Vediamo Andiamo Stufo che questi appari Ci distruttano La città La voce Devevo la Distruttore Ti sento Ti sento Ragazzi Non ce la faccio Non ce la faccio Aiutatemi No Nick No Ho lasciato una bomba Ho lasciato una granata No Oh cavolo Ho provato a salvarlo Ho provato a salvarlo No dai No non ci voleva lui adesso 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 Tutti sopra Nicola Non so cosa sta facendo Guarda come le sto ammazzando E' un'altra direttata Gangtante Non ci voleva saltare I bracci Guarda Io sono per terra Sono in un cespuglio Oh cavolo Sei l'unica Può salvarci solo lei Corri veloce Corri veloce Se vieni qui verso noi Puoi usare Caviti Vai vai Reza Reza Vai che io corro subito Faccio una stafetta Corro subito Corro subito da Andrea Grande Grande Stafetta Io sono qui Sono praticato Io sono qui Adesso io muoio definitivamente No no Vita No 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 Quello che era più comodo Di c'alle distanze Mi va benissimo Distruttore Non sto smartella Io sono ancora morto Eh ma è tutto poco Sono veloci sono morto di che cosa esattamente questa è il giudice d'anno non sarebbe stato benvenuto nel mondo non so ero tipo avvelenato non so c'era un sanguinamento non ho capito stasera è stato molto proficua ma la musica rimane in eterno do uno a questa parte no dai due è andata bene fino alla fine cosa seguirà poi con le votazioni ma poi ho avuto la partita come qualità della partita o come qualità della commissione quello che mi domano anch'io